Abbiamo coperto un po' tutte le maggiori città della nostra regione ma anche i centri più piccoli proprio perché ogni anno siamo chiamati a parlare d'Europa e ci fa ancora più piacere farlo quando questi incontri si incrociano con il 9 maggio che poco fa è stato presentato abilmente, a chi mi ha preceduto, come la festa dell'Europa è uno dei simboli dell'Unione Europea di 9 maggio come lui è la bandiera comune, come è il vino alla gioia, il vino d'Europa Grazie